ChatGPT bloccato in Italia. Cosa succederà? Ha ragione il garante? Oppure OpenAI? Ciao a tutti, io sono Giuseppe Croari e come avvocato informatico risolvo problemi legati ad aziende ed influencer. Come saprete ormai tutti, il sempre più chiacchierato ChatGPT ha temporaneamente dovuto salutare gli utenti italiani a causa del provvedimento del garante privacy. Questa decisione ha sollevato diverse problemiche. È stata giudicata da molti come una dimostrazione di arretratezza dell'Italia in tutto questo approccio, con l'approccio con le nuove tecnologie. È davvero così? Ho letto di tutto su questo tema e ci tengo a dire la mia. Partiamo da una premessa. Chi è il garante della privacy e perché ha bloccato ChatGPT? Allora, ebbene, il garante della privacy è un'autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul rispetto della protezione dei dati personali, ovvero il famoso GDPR che impone regole chiare e stringenti che devono essere rispettate da tutti gli operatori economici, quindi per tutti quei operatori economici professionali che si trovano a trattare i dati personali di cittadini europei. Il garante dunque ha ritenuto che i trattamenti dati posti in essere della piattaforma ChatGPT non fossero conformi a quanto previsto dal GDPR e dunque ha predisposto con un provvedimento, quello del 30 marzo 2023, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti. Si tratta di una misura preventiva in attesa del completamento di verifiche più approfondite, nonché della presentazione da parte di OpenAI delle proprie contradduzioni. Il provvedimento del garante è argomentato sulla base di quattro temi distinti. Ora vediamoli uno a uno. Uno, la mancanza di un'informativa degli interessati. Questa benedetta informativa. Come ormai sanno tutti, in qualunque trattamento di dati personali il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato un'informativa specifica. Nel caso di ChatGPT il garante ha constatato che non viene fornita alcuna informativa agli utenti né agli interessati. Due, un'altra importante criticità rilevata dal garante riguarda proprio l'assenza di questa idonea base giuridica in relazione alla raccolta di dati personali e al loro trattamento per scopo dell'addestramento di algoritmi. Proprio quell'addestramento algoritmico necessario a far funzionare ChatGPT. Tre, l'inesattezza dei dati trattati. Anche in questo caso il garante ha rilevato che alcuni dati personali trattati da ChatGPT fossero inesatti. Ed infine quattro, l'assenza dei meccanismi di verifica dell'età degli utenti, quindi con il rischio di trattare dati personali di minori. Come sapete, a essenza dell'articolo 8 del GDPR, il trattamento dei dati personali relativi ai minori di 16 anni è consentito solo se l'interessato ha acquisito il consenso dai genitori o di chi ne fa le veci. Il garante ha invece constatato l'assenza di tali meccanismi di verifica, rendendo di fatto impossibile il rispetto di queste normative. Attenzione, preciso che questi quattro meccanismi, quelli che ho appena esposto, base giuridica, informativa e tutela di minore e quant'altro, sono obbligatori per tutte le aziende che forniscono servizi o prodotti sul web. Allora è bene chiedersi, quale sarà il futuro di ChatGPT in Italia? Al momento il provvedimento del garante privacy è imposto solo una limitazione temporale del trattamento e si è in attesa quindi del completamento delle verifiche più approfondite e della presentazione delle contraddizioni da parte di OpenAI. Tuttavia resta da vedere quale sarà il futuro di ChatGPT e se saranno adottate misure aggiuntive per garantire la tutela dei diritti degli utenti. Direi che in ogni caso questo episodio ci offre l'opportunità di riflettere sull'importanza della tutela dei dati personali e la necessità di garantire una maggiore trasparenza da parte delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale. La tecnologia sta avanzando a un ritmo sempre più veloce e se da un lato può offrire grandi vantaggi dall'altro può anche creare nuove sfide in materia di privacy e protezione dei dati personali. E' quindi importante direi anche necessario che le autorità competenti come il garante siano in grado di adottare le misure necessarie per garantire una maggiore trasparenza e protezione dei dati personali. Questo ovviamente deve avvenire senza impedire lo sviluppo e l'innovazione tecnologica a cui noi siamo molto legati. Per qualsiasi informazione trovate tutti i miei contatti nell'infobox qua sotto. Tutela il tuo business ora!